e vorrei partire se tu siete d'accordo parlando degli Stati Uniti d'America. Qui sfondi veramente una porta aperta, l'avevamo approfondito, avevamo detto che ne avremmo parlato e adesso purtroppo mi dovrei lasciare un po' la parola perché ci sono tante tante cose da dire per un mercato statunitense che continua a rimanere il contrario di tutto ed è incredibile per quanto mi riguarda vedere come effettivamente tutto quello che si diceva nel 2022 si sta completamente ribaltando nel 2023. Per chi segue il mercato del lavoro, questa è legata a doppio filo con il tema dell'inflazione con il tema delle banche centrali, dell'aumento dei tassi di interesse sono tutte quante una serie di cose concatenate. Diamo un minimo contesto perché purtroppo dobbiamo rimanere stretti con i tempi ma ne riparleremo perché è indubbiamente quello che muove i mercati nel lungo periodo soprattutto in America che come sappiamo è il più grande mercato a livello di capitalizzazione quindi comunque bisogna dargli un'occhiata sempre. Allora, come siamo messi? Diamo un minimo di contesto, ti condivido lo schermo così che ripartiamo proprio dalle basi. Secondo, allora, dunque, che cosa abbiamo di fronte? Noi abbiamo di fronte un'inflazione che si trova, questo è il PIL, abbiamo un'inflazione su base annuale che come vediamo dal 2022 non fa altro che riscendere, siamo passati da un massimo del 9.1% base annuale, e questo è importante da definire, ad una discesa anche molto importante che ha portato l'inflazione a riscendere fino al 3%. Quindi comunque c'è stata una grande riflessione, questo complice dall'aumento dei tassi di interesse che come sappiamo ha impattato, impatta l'economia e impatta i mercati, impatta l'inflazione. Perché? Perché la banca centrale americana aumenta sostanzialmente l'indebitamento, gli interessi da pagare sugli indebitamenti delle aziende, quindi sostanza indebitarsi costa di più, quindi le aziende si indebitano meno, investono meno, spendono meno, e questo fa sì che si assumano meno persone, le quali diventano progressivamente più povere, c'è una flessione del lavoro, le persone comprano meno i beni, e questo porta all'abbassamento dell'inflazione, questo è il filo rouge che segue tutto quanto la faccenda. Quindi che cosa vuole vedere la Fed? Vuole vedere un abbassamento dell'inflazione riportandola alla base del 2%, che come ricordo è l'obiettivo primario, assieme alla ricerca della piena occupazione, è l'obiettivo primario di una qualsiasi banca centrale, sia che stiamo parlando della Fed che se stiamo parlando della BCE. Ora, questo è il contesto. Cosa è successo all'alto pratico? All'alto pratico noi stiamo riassistendo, complice dell'effetto base, ossia dell'effetto che si ha nell'analizzare un dato che prende in considerazione un paniere annuale, stiamo riassistendo di un rialzamento, di un rialzo dell'inflazione, riportandola al 3,7%. E sarà una cosa che tendenzialmente continuerà ad aumentare. Perché? Perché noi dobbiamo fare i conti con questo momento, col momento della discesa. E dato che la base annuale deve riconsiderare i prezzi che stanno discendendo. Per cui, per farla semplice, ci vuole del tempo per rivedere l'inflazione sulla base del 2%. Che cosa vuole vedere la banca centrale americana? Vuole vedere un abbassamento importante dei livelli di inflazione, ripartendo dal mercato vero e proprio del lavoro. Tra parentesi, per chi fosse interessato e per chi volesse analizzare nel dettaglio l'inflazione, io consiglio di vedere altri dati che possono essere sufficientemente utili. Ossia, l'inflazione core, che è quell'inflazione che, a differenza dell'inflazione normale, il CPI core, non va a considerare i beni dell'energetico e i beni alimentari, i quali sono estremamente volatili. Infatti, come vediamo, a differenza dell'inflazione normale, l'inflazione core è più alta, al 4.1%, benché continua a discendere, a differenza dell'inflazione normale che ha avuto un certo piccolo rialzo, e anche l'inflazione su base mensile. Perché questa ci permette di andare a vedere come, sul base mensile rispetto al mese precedente, quanto è aumentata l'inflazione, in questo caso dello 0,4%, rispetto alle aspettative che lo erano dello 0,3%. Così possiamo andare sull'inflazione core, mensile, però andiamo avanti per chiudere. Cosa è successo invece per quanto riguarda il mercato del lavoro? Come è messo il mercato del lavoro negli Stati Uniti? Beh, in realtà è messo molto bene. Molto bene non c'è quella flessione allo stato attuale delle cose che ci si aspettava, e che mi sembra paradossalmente una cosa incredibile, che potrebbe portare effettivamente la Fed a raggiungere un obiettivo che non si era mai raggiunto, ossia un abbassamento, un atterraggio morbido come lo va a definire, un abbassamento del livello di inflazione senza dover distruggere, tra le virgolette, il mercato del lavoro. Poi che ci arrivi è tutto un altro discorso. Comunque, il mercato del lavoro che continua ad essere estremamente resiliente. Il numero delle buste paga del settore non agricolo è uno degli indicatori che personalmente vado a considerare molto, e personalmente si considera molto dagli analisti, che continua a rimanere molto forte, 336 mila unità contro le 170 mila attese. Vuol dire che il numero delle buste paga rispetto al mese precedente è aumentato neanche di più dell'attese, e soprattutto le richieste di sussidare le disoccupazioni, le quali continuano ad essere a dei livelli francamente estremamente bassi, 209 mila unità. Vuol dire che abbiamo pochi disoccupati e molti lavoratori, i quali continuano a spendere. Qui, senza che vada a riprendervi tutti i quantitati che abbiamo visto nelle precedenti puntate, in caso andatevi a riguardare, abbiamo i mercati del lavoro, del settore manifatturiero e del settore dei servizi, che continuano ad essere resilienti. Perché? Poi, perché come abbiamo visto, la gente continuava ad utilizzare i suoi soldi, riducendo il suo quantitativo di risparmio e alzando il loro indebitamento con le carte di credito. Questa è la situazione, una situazione estremamente complicata, la quale molte persone non si aspettavano. Matt e Steph, ho parlato tantissimo. Nell'arco di 5 minuti hai fatto un ottimo recap di un po' di tutto, e tra l'altro mi piaceva ritornare anche sull'ultimo aspetto, sull'ultimo punto che hai citato, di cui ne abbiamo parlato in una live, se non ne ricordo male, la prima che abbiamo fatto, appunto in cui si citava il fatto che l'americano medio, pur guadagnando di più, tende ad debietarsi molto di più con le carte di credito e non ci sta più dietro praticamente. Per cui potrebbe essere anche un piccolo cane che si morde la coda, perché alla fine i stipendi aumentano, si spende più di quanto si guadagna comunque. E questo potrebbe essere un po' un bivio, nel senso che ci si potrebbe trovare in una situazione inaspettata, non solo per il fatto dell'inflazione, ma anche per lo stato di indebitamento del cittadino americano medio. Assolutamente. Diciamo che la partita si gioca in questo momento sul se si uscirà effettivamente a vedere questo atterraggio morbido. Perché questo? Perché per vedere un abbassamento dell'inflazione in maniera importante, facciamo così, il livello di indebitamento allo stato attuale delle cose è fuori di testa, i titoli di Stato vagano il 4%, l'indebitamento è al 5,25%, siamo a dei livelli estremamente alti per quanto riguarda l'indebitamento, insostenibili nel lungo periodo. La Banca Centrale Americana ha dichiarato che rimarrà tale fin tanto che non vedrà che si rompe qualcosa. Cosa si potrebbe rompere? I nasprimenti della guerra, cosa che con Israele potrebbe accadere, rottura del mercato del lavoro, abbassamento del settore manufatturale dei servizi, tutte cose che allo stato attuale delle cose potrebbero verificarsi, ma non stanno ancora accadendo. E quindi si rischia di vedere un crack del mercato del lavoro più importante del previsto, che è il grande rischio di vedere una possibile recessione, che è comunque una recessione importante, non faccio riferimento alle piccole recessioni, quelle su base bimestrale, dove è più una recessione tecnica che una recessione di fatto. Io parlo proprio di una possibilità concreta di contrazione del lavoro, dove le aziende hanno delle difficoltà e quindi licenziano persone. E per ripartire con l'espansione economica, che è quella che i mercati stanno già scontando, per quanto siamo ancora molto lontani dal vedere il fenomeno della grande espansione economica, dove i mercati li schizzano in alto, come è successo post 2011. In quel caso, ecco, lì bisogna vedere se si accadrà. Se questa recessione risunta, dovessi non arrivare addirittura, che sarebbe un sogno, o arrivare in maniera estremamente dannosa, che sarebbe il caso peggiore. Beh, il fatto che al conflitto ucraino-russo si sia aggiunto anche questo secondo conflitto fra Israele e Hamas, potrebbe rischiare di introdurre più player, perché si parlava di Iran, si parlava di Stati Uniti, si parlava di Cina. Ci sono parecchie cose in ballo che potrebbero minare la stabilità economica, non solo degli Stati Uniti, ma anche mondiale a questo punto. Purtroppo, quando si va a guardare, dobbiamo rimanere per forza di cose sul particolare. Poi, di temi ce ne sono tantissimi, riapprofondiamo, perché un altro tema è la Cina e le crisi geopolitica che c'è con la Cina. Se andiamo ad ampliare i BRICS che emergono nuovamente, se andiamo all'OPEC Plus con il petrolio, se andiamo poi ad allargare la lente, ci sono moltissime cose delle quali si potrebbe andare a discutere. Ed è complicato riuscire a riassumere tutto, però sì, è corretto, assolutamente. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti!